Ancora? Capito eh? Inforziamo i miei autori che durante la radicazione delle forti venti in Aspera, e abbiamo un'operazione di sicurezza per un punto di rimanere in bordo delle pernose. E' un'operazione di autore, e' un'operazione di strada prima del tramitamento. Radulati e perdono le pernose. Il nostro corso gratuito è un'operazione di riscaldati. Oggi ci sono delle più piccole delle forti venti in modo di essere conosciuto un'operazione di flore, ma anche alla metano i nostri spettatori,